benvenuto e benvenuta in questa meditazione che ti guiderà ti accompagnerà in un sonno profondo attraverso questo percorso ogni tua cellula ogni tuo muscolo ogni parte del tuo corpo andrà a rigenerarsi completamente e tu alla fine di questo percorso ti troverai in uno stato completamente di vitalità di energia di forza di completa rigenerazione cellulare ti chiedo semplicemente di distenderti comodamente nel luogo dove tu sei di fermarti e portare l'attenzione nel tuo respiro respiro profondo concentrati solo sul tuo respiro le parole e la musica andranno ad agire in profondità perché il tuo inconscio la tua parte più profonda sa che cosa deve fare e l'unica cosa che ti chiedo è di darmi il permesso di guidarti attraverso questo percorso e ogni singola mia parola possa entrare in connessione con la la tua vibrazione solo così entrerai in una calma profonda quella calma che aiuterà il tuo corpo a rigenerare e a rigenerarsi porta ancora l'attenzione al tuo respiro prendi aria trattieni per qualche istante e lasci andare trovati una posizione nella quale ti senti completamente a tuo agio questo è il tuo momento un momento per innalzare le tue vibrazioni un momento per lasciare andare i tuoi pensieri un momento per rallentare un momento per aiutare ogni singola parte del tuo corpo per entrare sempre di più in uno stato di rilassamento profondo perché te lo meriti il tuo corpo le tue cellule hanno bisogno della loro attenzione hanno bisogno del tuo amore respira profondamente aria che entra e aria che esce come se il tuo corpo sprofondasse nel tuo letto o nel posto dove tu sei e assorbe tutte tutte le tensioni e ora ti chiedo di immaginare che intorno al tuo corpo ci sia una nuvola bianca una nuvola che ti permette di fluttuare nella tua stanza e lasciare andare tutti quei pensieri inutili che hanno preso possesso della tua mente durante la giornata lasciare andare fuori dalla tua stanza in modo naturale e continui ad ascoltare la mia voce non è importante che dai importanza ad ogni singola parola perché la tua parte più profonda sa che cosa deve fare la tua mente è fluida come un torrente come un ruscello e mentre il mondo fuori da questa stanza continua a fare quello che è giusto fare qui ti trovi in un luogo completamente al sicuro a tuo agio dove ti puoi rilassare profondamente il tuo corpo alla fine di questo percorso sarà completamente rigenerato e ogni tua cellula sarà completamente rinnovata immagina all'interno della tua mente il tramonto il sole che scende ed entra completamente nell'acqua o un sole che scende dietro le montagne lentamente ti porta sempre di più in uno stato di rilassamento profondo e se c'è ancora qualche resistenza nel tuo corpo e senti il desiderio di portare la tua attenzione lì in quella parte respira respira profondamente continua a rilassare ogni parte del tuo corpo porta l'attenzione ai tuoi piedi e si rilassano profondamente si rigenerano alle gambe i muscoli delle gambe si rilassano al bacino lì dall'addome come se portassi in quella zona una luce una luce che rilassa tutto il tuo addome come se questa luce potesse assorbire le impurità e nello stesso tempo anche la nuvola sta facendo il suo lavoro e la tua mente si sente sempre di più a proprio agio profondamente perché attraverso questo percorso potrai entrare sempre più rapidamente e velocemente in connessione con il grande universo che ti porterà tutto quello che ti serve magari ti arriveranno dei sogni più chiari più nitidi più luci e ti ricorderai al mattino successivo qualche tuo sogno ti porterà delle risposte che cercavi da tempo attraverso un simbolo attraverso un simbolo attraverso un percorso un'idea forse ti alzerai al mattino con una parola quella parola che ti permetterà di capire che sei nel posto giusto che sei sulla strada giusta e quello che conta è rilassarti sempre più profondamente e lascia che questa nuvola possa portarti in un mondo ancora più tranquillo in un luogo ancora più tranquillo e continui a rilassare il tuo petto le spalle le braccia le mani e ora passa al tuo volto apri leggermente la bocca distacca distacca i denti come se lasciassi un piccolo spazio e nello stesso tempo rilassi le mascelle la tua cute rilassi completamente tutto quello che è importante per te è portare via qualsiasi tipo di pensiero perché questa nuvola sa dove portarti dove guidarti e ti spinge sempre di più in un luogo tranquillo dove ci sono vibrazioni di amore di pace e lì tutti i tuoi neuroni si ricollegano in quella armonia si ricollegano in quel mondo di pace, di benessere, di gioia e tu ti stai ricollegando in questo mondo fatto di pace fatto di amore che gli dai il permesso di guidarti di lasciarti andare e la nuvola sa dove portarti verso la fiducia verso la quiete e questa è l'ora l'ora giusta per te per portare calma e tranquillità in ogni parte del tuo corpo verso un viaggio profondo e ti sveglierai pieno di energia ti sveglierai pieno di entusiasmo con la voglia di fare con la voglia di creare di sognare perché qui puoi entrare in connessione sempre di più nella tua profondità quella profondità quella profondità che ti porterà a leggerezza e così ti appresti a scivolare sempre di più in un momento di pace come se osservassi la tua mente e il tuo corpo è lì che si sta addormentando e scivola in uno stato completamente di quiete di meraviglia così come puoi vedere le stelle intorno a te puoi vedere i pianeti puoi vedere all'orizzonte qualcosa che rispecchia dentro di te quella quiete quella calma più profonda che cercavi da tempo e qui la trovi perché da qui in poi puoi entrare in uno stato profondo rilassamento dove tutto è possibile e la nuvola ti spinge sempre sempre di più in quel luogo di tranquillità in quel luogo di amore di pace in quel luogo dove tu hai il bisogno di rigenerare ogni tua cellula e lì in questo luogo di raccoglimento dove lo spazio si confonde con il tempo perché il qui il tempo non esiste dove la materia si rigenera dove possono nascere magiche rivelazioni intuizioni ma tu in questo momento sai che hai bisogno di rilassarti di riposarti e la tua mente sa quello che deve fare così come il tuo corpo sa esattamente che cosa è necessario per te lasciarti guidare dal tuo rilassamento e lasciarti guidare da questa nuvola che ti spinge sempre di più in un rilassamento profondo ora conterò da 1 a 3 e al mio 3 inizierai a sentire che accade qualcosa dentro di te quella sensazione che ti spingerà sempre di più in un rilassamento profondo come se potessi sentire un'onda di energia che attraversa il tuo corpo in tutte quelle parti del tuo corpo di due orle e ti porterà guarigione in tutte le parti del tuo corpo uno porta questa energia di rilassamento dentro di te dai piedi alla testa due senti il tuo corpo che si rigenera ed entra sempre di più in un rilassamento profondo tre questa notte le ore che dormirai diventeranno sempre più intense e più profonde perché dai una direzione chiara alla tua mente e sai che tutto questo tempo questo tempo che è a disposizione ti porterà maggiore energia a tua mente e al tuo corpo scendi sempre di più in questa vibrazione di rilassamento è come se ogni singolo passo ogni singolo respiro ti porta sempre di più in un luogo protetto ora porta l'attenzione al tuo addome porta una luce una luce rigenerante porta l'attenzione al tuo cuore che diventa sempre più forte ricco di amore ricco di amore e innonda completamente il tuo corpo di amore perché lo senti così come senti la mia voce che ti rilassa completamente accompagnandoti a livelli sempre più profondi di rilassamento e mentre la tua mente si rilassa tutte quelle tossine emotive si lasciano andare attraverso il tuo corpo attraverso i tuoi organi attraverso il tuo pensiero quelle credenze quei pensieri inutili vanno giù nella madre terra e la nuvola sta assorbendo sempre di più quella energia pronto a mantenere un'intenzione chiara pronto a scivolare sempre di più in una profondità continua così un percorso incondizionato ora osserva che il tuo corpo sprofonda completamente all'interno di questa nuvola e vai vai lontano lontano in un luogo dove c'è solo la calma la tranquillità armonia serenità e se ci sono ancora delle resistenze se c'è ancora intorno a te un peso da corazza immagina di avere uno strumento tra le mani come se fosse una chiave quella chiave che possa aprire quella corazza e tu puoi volare nel cielo libero e libera allontanandoti da qualsiasi resistenza superando qualsiasi barriera il tuo corpo è leggero come una piuma che fluttua nell'aria ma nello stesso tempo tu puoi controllare la tua mente puoi controllare il tuo corpo puoi controllare il battito cardiaco che rallenta sempre di più respira respira lentamente lentamente il tuo respiro coinvolge completamente il tuo corpo sempre di più in quella vibrazione naturale quella vibrazione che ti spinge a dormire profondamente ora come se fossi un bambino una bambina senza pensieri senza ostacoli senza nulla libero da qualsiasi preconcetto libero da qualsiasi idea libero da ogni singolo ostacolo vai ora stai entrando in un luogo pieno di meraviglie pieno di miracoli dove le cose accadono dove le cose funzionano in un modo semplice e naturale in questo luogo incantato fatato dove puoi creare tutto ciò che vuoi puoi trovare i maghi puoi trovare le fate puoi trovare in questo ambiente persone felici tutto ciò intorno a te risplende di armonia di felicità di abbondanza il tuo corpo sta bene si sente bene come se si sentisse veramente nella sua casa e ora ti trovi un posto dove puoi sentirti veramente tranquillo le persone ti guidano in un luogo dove puoi essere lontano da tutti da tutto e sei lì che osservi il cielo ti permette in questo luogo di avvicinarti sempre di più alle stelle e le stelle hanno una forma hanno un significato per te hanno quel significato profondo che ti spingono sempre di più ad avvicinarti in un rilassamento sempre più profondo e anche se adesso la tua mente dorme il tuo corpo si rilassa e ascolti lo stesso le mie parole scivoli sempre di più in un sonno profondo in un sonno rigenerante la mia voce ti spinge sempre di più in profondità quella profondità che ti aiuta a sentirti bene la mia voce ti guida verso la serenità verso la serenità perché il tuo corpo sa che cosa deve fare in questo momento libero libera, leggera è come se fluttuassi in questo spazio è come se sentissi la voglia e il desiderio di decidere di tornare lì in quel luogo tutte le volte che vorrai e osserva 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 dall'alto il tuo corpo che si rilassa pieno di luce di amore e tu ti rigeneri perché hai bisogno di rigenerarti la tua mente ha bisogno di calmarsi il tuo inconscio sa che è importante per te fermarti stai portando una direzione chiara e precisa in questo tuo intento l'intento di trovare il tuo spazio il tuo rifugio e saprai e comprenderai che ogni volta che farai questo percorso oppure ogni volta che immaginerai che il tuo corpo sarà su una nuvola avrai dato una direzione chiara alla tua mente e quando immaginerai di essere su una nuvola saprai come rilassarti profondamente e saprai come entrare rapidamente in un sonno profondo e anche se senti i pensieri che arrivano saprai come gestirli saprai come rallentarli saprai come sentirti a casa e ora continua continua nel tuo percorso quel percorso unico la mente è più grande del cielo perché se li metti fianco a fianco l'una contiene l'altra facilmente se osserviamo con gli occhi le immagini che arrivano e le puoi portare lontano quelle che sono inutili e puoi tenere con te le immagini che ti portano armonia la tua mente si calma è come se potessi immaginare un paesaggio dalle mille sfaccettature colorato con delle sorgenti con delle colline il cielo azzurro l'aria è fresca ti permette di entrare sempre di più in un stato di rilassamento profondo la via più chiara verso l'universo e comprendendo che la mente ha uno spazio infinito perché tu vali perché tu sei importante libera da qualsiasi concetto libera da qualsiasi resistenza e ora rilassati e lascia andare azzurro 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 ma azzurro azzurro Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.